Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. Tornano di moda, per chi non se ne fosse ancora accorto, i costumi all'uncinetto, che ormai hanno già iniziato a strizzare l'occhio alla moda dell'estate 2022. Che siano bichini o interi, ormai da anni, anzi decenni, conquistano il popolo delle fashion victim. Ma perché piacciono davvero così tanto a tutti questi costumi all'uncinetto? La risposta è molto semplice, perché gioca di differenza che da quelli che vediamo di solito, quelli più comuni, è sicuramente il loro stile. Retro, inaspettato ed esclusivo. E ne vediamo proprio adesso alcuni esempi. Con quale filato potreste realizzare questi costumi? Beh, sicuramente il più adatto è il filato splash. Il filato per eccellenza che ha superato tutti i test ai quali può essere davvero sottoposto un costume. Resistente all'acqua salata, resistente al cloro, alle temperature alte, ai lavaggi moltipli e soprattutto di rapida asciugatura. Con i suoi tantissimi colori potrete finalmente realizzare il vostro costume crochet ed essere alla moda. Ma veniamo anche ad altri dettagli che possono arricchire il vostro costume, di cui probabilmente non sapevate neanche l'esistenza sul nostro catalogo Tessiland. Andando infatti nella categoria applicazioni, cliccando su coppette reggiseno, potrete visionare tutti gli accessori utili proprio per realizzare questo capo alla moda. Quali ad esempio le classiche clip che ovviamente sono utilissime, soprattutto nei bikini, per poter fissare il vostro bikini. Ce ne sono di diverse forme, di diversi materiali. Ma parliamo anche di un accessore che può essere senz'altro utile per diversi motivi. Quale potrebbe essere dare l'effetto push-up o perché no magari anche una maggiore imbottitura o ancora un maggiore comfort. Che cosa possono darvelo? Le coppette reggiseno. Ce ne sono di varie misure, con diverse tipologie di effetti push-up e soprattutto diverse forme. In modo tale che possano davvero accontentare tutte e adattarsi perfettamente a qualsiasi tipologia di costume vorrete realizzare. Quindi non vi resta che andare sul nostro sito alla voce, prima dello splash e poi delle coppette reggiseno, e realizzare il vostro costume crochet dell'estate 2022. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi do appuntamento al prossimo articolo e mi raccomando iscrivetevi sul nostro canale YouTube, attivate la campanella. Noi ci vediamo al prossimo articolo, ciao e buon crochet!